Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì quando un potente campo ed esteso campo di alta pressione interesserà l'Europa centrale e l'Italia, mantenendo sempre a debita distanza le perturbazioni che si ritroveranno a centinaia di chilometri dalle nostre regioni in aperto atlantico alle porte di Irlanda e Portogallo. Nel dettaglio possiamo notare come sull'Italia non ci saranno precipitazioni se non un po' di desiderio variabilità all'estremo sud, Calabria-Sicilia con sporadici, piovaschi, altrove clima asciutto, l'anticiclone sarà posizionato proprio tra il centro nord Italia e i paesi oltre Alpe. In sintesi la mappa dell'Italia, bel tempo, ampie aperture del cielo dappertutto, solo della variabilità sulla Calabria e sulla Sicilia con locali piovaschi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.